Ci sono circa 300 fornitori di VPN disponibili sul mercato in questo momento e ora stiamo per presentarvi i tre fornitori migliori sulla base di recensioni di utenti e di esperti. Si tratta di ExpressVPN, NordVPN e CyberGhost VPN. Tutti servizi dalle prestazioni davvero eccellenti, grande affidabilità e assistenza clienti tempestiva. Ciò che li accomuna è che non tengono registri, hanno molti server in tutto il mondo, hanno una politica di rimborso di 30 giorni, consentono l'accesso ad almeno tre dispositivi, sbloccano i contenuti con restrizioni geografiche, si trovano al di fuori dell'alleanza dei paesi che controllano tutto e tutti, sbloccano con successo Netflix e funzionano tutti bene in Cina. Oggi ci focalizzeremo sulle funzionalità che consentono a questi fornitori di emergere nel mercato e in costante crescita delle VPN. Il primo della nostra lista è ExpressVPN. ExpressVPN ha dimostrato di essere il miglior provider VPN quando si tratta di velocità, giustificando così il nome dell'azienda. Ha i server più veloci che abbiamo testato finora e neanche un numero altissimo. Ecco alcuni di questi test. Puoi vedere che tutti sono sopra i 20 e 25 megabyte al secondo, il che è un ottimo risultato. Sono un po' costosi, ma la velocità è una caratteristica importante da considerare quando si tratta di VPN, quindi potrebbero valere il prezzo. Un'altra caratteristica interessante offerta da ExpressVPN è il Tunneling Diviso. È una funzione che consente di instradare parte del traffico del dispositivo o dell'app attraverso la VPN, mentre altri dispositivi o app mantengono l'accesso diretto a internet. Eseguono il proprio DNS criptografato privato su ogni server, il che significa che le informazioni sul traffico DNS vengono protette al meglio e che la connessione è più veloce. Ha un'applicazione disponibile per tutti i sistemi operativi, facile da utilizzare, ma che consente anche alcune opzioni extra per utenti più esperti. Utilizza un protocollo automatico di default, il che significa che seleziona automaticamente il protocollo più adatto la tua rete, ma sei comunque libero di scegliere un protocollo diverso. La migliore è OpenVPN. UDP è più veloce e migliore velo streaming, mentre TCP è più affidabile, ma di solito è più lento. L'applicazione include un blocco di rete, o kill switch, che assicura che nessuno dei due dati fuoriesca dal tunnel VPN se la connessione viene persa all'improvviso. Inoltre il suo servizio clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite email e chat dal vivo, e questo è un altro punto a suo favore. La grande quantità di valutazioni positive parlano da sole e l'esperienza degli utenti si è rivelata complessivamente molto positiva. Quindi possiamo concludere che se scegli i servizi di ExpressVPN, probabilmente non ne rimarrai deloso. Il prossimo sulla nostra lista è NordVPN. Come Express, NordVPN ha server veloci e dedicate a proteggere la tua privacy e lo fanno abbastanza bene, a volte un po' più lenta e per questo è al secondo posto. D'altra parte i servizi NordVPN sono abbastanza economici considerando tutte le funzionalità comprese nel prezzo. Usa la doppia crittografia per creare un'ulteriore protezione alla privacy. Ciò significa che il primo server che si connette rinderizza tutto il traffico a un altro server da cui raggiunge la destinazione finale. In questo modo il secondo server VPN non sarà a conoscenza del tuo vero indirizzo IP, poiché è già stato modificato dal primo server. Un'altra soluzione di sicurezza che hanno è un onion sulla VPN. In questo caso il traffico viene prima crittografato all'interno del layer NordVPN e successivamente inviato alla rete Tor. Questo significa che puoi anche accedere alla rete Tor usando solo NordVPN. CyberSec è un'ulteriore funzionalità di sicurezza compresa nel pacchetto. È a loro dire una soluzione tecnologica avanzata che porta la tua privacy a un livello superiore. Fondamentalmente blocca i siti web sospetti per proteggerti da malware o altre minacce informatiche, ma anche dalla pubblicità fastidiosa e invadente. Dispone di centinaia di server ottimizzati per l'attività peer to peer che rendono efficiente la condivisione di file e proteggono al contempo la tua privacy. La sua applicazione è disponibile per tutte le piattaforme. Il sistema è abbastanza facile da utilizzare, ha alcune impostazioni di base, ma offre anche altre funzionalità aggiuntive per i più esperti. Come ExpressVPN l'applicazione NordVPN include il kill switch, con il quale puoi selezionare manualmente e creare un elenco di app che vuoi includere nello switch. Quindi come vedi NordVPN eccelle davvero quando si tratta di sicurezza e di privacy e con oltre 2400 server in tutto il mondo, è ovvio il motivo per il quale viene scelto da moltissimi utenti. Infine la terza VPN migliore della nostra lista è CyberGhost VPN. CyberGhost è probabilmente la scelta migliore per rapporto qualità e prezzo. È un po' più lenta di ExpressVPN e ha un po' meno funzionalità rispetto a Nord, ma questo non significa che non debba essere presente in questa lista. Ha tutto ciò che una buona VPN dovrebbe avere ed è più economica della maggior parte delle VPN sul mercato. Alcune delle funzionalità incluse nel servizio sono la protezione da perdite DNS, la scelta di diversi protocolli, l'applicazione per tutte le piattaforme e il router e l'accesso a oltre 1000 server in tutto il mondo. Il motivo principale per cui CyberGhost VPN è in questa lista è la sua applicazione che ha un'interfaccia grafica davvero bella ed è molto intuitiva. È stato fatto un ulteriore passo avanti rendendola più semplice da utilizzare agli utenti meno esperti, grazie alla creazione di impostazioni automatiche basate sulle attività preferite. È molto semplice proteggere la tua rete e navigare in modo anonimo, ma anche sbloccare i contenuti in streaming poiché dispone di impostazioni dedicate per alcuni dei servizi streaming più popolari. Puoi personalizzare ogni funzione e creare la tua configurazione preferita. Puoi scegliere un server specifico e nella scheda impostazioni è possibile impostare la connessione proxy, creare un elenco di eccezioni che ignoreranno la VPN e regolare altre impostazioni relative alle connessioni. Come si può vedere l'applicazione è eccellente, la sicurezza è ottima e la velocità del suo servizio non è male e si ottiene tutto a un prezzo molto ragionevole. Per concludere la presentazione vorrei solo dire che ciò che ho mostrato nel video sono solo alcuni dei punti salienti che fanno risaltare questi fornitori. Se hai bisogno di maggiori informazioni puoi trovare una recensione dettagliata di tutti questi fornitori sul sito web di VPN Mentor. Questo è tutto per oggi, grazie per la tua attenzione, se hai apprezzato il nostro video metti un like, condividilo o lascia un commento qui sotto.